Ben trovati al nostro appuntamento quotidiano. Oggi parliamo di un tema che abbiamo già toccato nei giorni scorsi che è l'emergenza sanitaria e in particolare ascolteremo la testimonianza della nostra amica Roberta, infermiera in una RSA, in una casa di riposo, e ci racconterà come sta vivendo questo momento e in particolare racconterà cosa questa drammatica situazione sta dicendo, sta chiedendo alla sua fede. Buon ascolto! In RSA la situazione è davvero molto complessa. Noi da anni coltiviamo relazioni con i nostri ospiti all'interno della struttura con i quali quotidianamente viviamo delle relazioni più o meno profonde. Vederli oggi all'interno della struttura, soli, così fragili, mette addosso a noi operatori sanitari davvero molta tristezza. Purtroppo per fortuna in questo momento loro non si rendono totalmente conto della situazione drammatica che stiamo vivendo in questo momento in Italia, ma quello che loro percepiscono è sicuramente un forte senso di abbandono. Abbandono che però non è reale perché costantemente i familiari, i parenti si fanno vicini e prossimi chiamando tutti noi operatori sanitari tutti i giorni per sapere, avere notizie circa il loro stato di salute. Quello che però loro percepiscono è davvero un po' la lontananza. Inizialmente non l'hanno così percepita in maniera così importante, ma oggi dopo diverse settimane in cui la struttura è chiusa all'accesso ai parenti sicuramente lo stanno proprio sentendo in maniera importante. Proprio qualche giorno fa un paziente mi ha chiesto notizie circa il coronavirus avendo sentito il Tg, e dopo il mio racconto mi ha detto una frase molto semplice ma molto reale. Mi ha detto Roberta è come essere in guerra senza esserlo veramente. Questa frase mi ha molto colpito anche perché molti di loro, ultra novantenni, hanno vissuto veramente la seconda guerra mondiale e questa frase mi ha davvero molto colpito e anche messo addosso molta tristezza in tutto questo perché loro davvero stanno vivendo un periodo di forte solitudine e l'altro aspetto che mi colpisce sempre è sicuramente questo trattamento che stanno subendo alla fine proprio nei momenti, negli ultimi momenti di vita. non hanno una volta spenti, non hanno un funerale, non hanno un fiore, non hanno una carezza, non hanno un abbraccio, non hanno neanche un abito, tutto viene fatto in fretta e furia e tutto questo viene fatto lontano dai propri cari, dai propri affetti e questo davvero è molto molto triste. Ciò che io vivo lavorando all'interno dell'RSA è questo forte senso di impotenza. Impotenza perché gli ospiti si stanno spegnendo uno dopo l'altro, si stanno proprio spegnendo, lasciando andare e dall'altra parte oltre a spegnersi ci si sente impotenti perché non si riesce a far nulla per riportarli in qualche modo alla vita. Sono talmente fragili e hanno come dicevo prima un forte senso di solitudine e di un forte senso di abbandono stanno vivendo che questo loro senso di solitudine e di abbandono in qualche modo colpisce anche tutti noi, tutti noi operatori sanitari che siamo chiamati in prima linea. Siamo chiamati in prima linea a dare loro fiducia, coraggio, forza, ma è davvero faticoso. Corriamo, corriamo da un corridoio all'altro, stiamo lavorando a dei ritmi importanti con delle risorse ridotte, ma la parte che a me personalmente pesa molto più è sicuramente il carico emotivo, il carico emotivo che queste persone ci danno. Proprio oggi un paziente mi ha chiesto, infermiera, ma quando il buon Dio mi chiamerasse? Io a questa domanda non sapevo inizialmente cosa rispondere, poi ho provato a dare un po' di coraggio e ho risposto forza, non mollare, resisti e lui in maniera molto lucida e serena mi ha chiesto infermiera toglimi pure l'ossigeno, perché sai io senza ossigeno muoio soffocato e almeno vado al creatore, vado dal buon Dio. E io davanti a questa richiesta mi sono sentita da una parte impotente, perché non avevo neanche delle parole di conforto e di coraggio da dargli e in quel momento mi sono solo permessa di stringere la mia mano alla sua, fargli una carezza e stare in silenzio lì vicino al suo letto. Ecco, questa è la parte che noi viviamo quotidianamente lì dentro ed è la parte davvero più faticosa, più faticosa ma alla quale siamo davvero chiamati ogni giorno, ogni giorno a vivere, a vedere e dobbiamo in qualche modo farci prossimi, farci vicini, perché loro non si meritano tutto questo, ma si meritano molto di più, si meritano almeno la nostra presenza. Mi sono chiesta più volte chi me lo fa fare ogni giorno di alzarmi la mattina e di andare al lavoro a vedere, a vivere e a toccare con mano tutta quella sofferenza. Mi sono interrogata anche con la mia fede e mi sono detta che forse davvero tutta questa forza me la sta dando il buon Dio. Il buon Dio che in questo tempo di Quaresima forse mi sta dando questa croce da portare, questa è in questo momento la croce che sono chiamata a portare e mi sta dando dall'altra parte tutta la forza per poter davvero stare vicino a quei pazienti che stanno soffrendo, che stanno vivendo questa situazione di solitudine drammatica e quindi il buon Dio davvero ci sta chiamando a stare, ci sta chiamando a farci prossimi per tutti quei pazienti che nella vita hanno dato tanto e ancora oggi sono in grado di dare e che si meritano molto di più di quello che stiamo dando. Ringraziamo di cuore Roberta per la sua toccante testimonianza e concludiamo questo breve momento con una preghiera al Sacro Cuore di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amén Proteggi mio Dio, in te mi rifugio Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore Senza di te non ho alcun bene Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore Si affrettino altri a costruire idoli Io non spanderò le loro ribazioni di sangue Ne pronunzierò con le mie labbra i loro nomi Il Signore è mia parte di eredità e mio calice Nelle tue mani è la mia vita Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi La mia eredità è magnifica Bene dico il Signore che mi ha dato consiglio Anche di notte il mio cuore mi struisce Io pongo sempre innanzi a me il Signore Sta alla mia destra, non posso vacillare Di questo gioisce il mio cuore Esulta la mia anima Anche il mio corpo riposa al sicuro Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro Né lascerai che il tuo Santo veda la fossa Mi indicherai sentiero della vita Gioia piena nella tua presenza Dolcezza senza fine alla tua destra Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti